Depositate le liste degli aspiranti sindaci, sono 82 di cui 11 donne, a rischio quorum i comuni in cui si è presentata una sola lista, 24 in tutto. Oggi a Sondrio Giuliano Pisapia, capolista della circoscrizione nord-ovest del PD Siamo Europei, ottimismo sull'esito delle elezioni del 26 maggio. Ponte in Valtellina si conferma terra di cultura, resiste da 42 anni la sua manifestazione clou, domenica la passeggiata di primavera fra Meletti e Vigneti. Presa modello dall'Unione Europea per le eccellenti performance ambientali, Tirano si distingue a livello internazionale per l'annoso lavoro svolto nelle rinnovabili. Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Elezioni europee e comunali sempre più vicine. Giorno deputato al confronto il 26 maggio prossimo, quando gli elettori della provincia di Sondrio saranno chiamati alle urne fra le 7 e le 23. 51 su 77 i comuni al voto in Valtellina e Valchiavenna. Fra i maggiori nell'ordine Morbegno, Tirano e Chiavenna. Cuorum a rischio in quelli in cui si presenta una sola lista, 24 in tutto. Vediamo il servizio. Sono 51 su 77 i comuni della provincia di Sondrio che andranno al voto il 26 maggio prossimo, data in cui si terranno anche le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 e subito dopo partirà lo spoglio delle schede delle europee, mentre quello delle elezioni comunali è rinviato alle 14 del 27 maggio. Sono 162.821 gli aventi diritto al voto in provincia di Sondrio, almeno al 45esimo giorno antecedente alle elezioni per le europee, su un totale di 199 sezioni, mentre 96.321 sono gli elettori per le comunali, di cui maggiori sono riferiti al comune di Morbegno, 10.799, Tirano 8.460 e Chiavenna 7.013. Il numero più basso di votanti sia su Pedesina, solo 50. Indicativo il fatto che quasi la metà dei comuni al voto, 24 su 51, veda la proposizione di una sola lista di candidati, mentre due sono i comuni in cui si confrontano tre liste, Tirano e Piantedo, e uno, Grosio, quello in cui i candidati sono addirittura quattro, Gian Antonio Pini, Alessandro De Rio, Roberto Baitieri e Carlo Toini. In totale 82 candidati sindaci, di cui solo 11 donne. Focalizzandosi sui comuni maggiori, per Morbegno la sfida è fra il sindaco uscente Andrea Ruggeri, in corsa con la lista Cambia Morbegno 2.0, Popolare Eretico, e Alberto Gavazzi di Svolta a Morbegno, già assessore all'urbanistica dal 1999 al 2009, di area centrosinistra. Per Tirano, match a tre fra il sindaco uscente, Franco Spada, area centrosinistra, Pietro Giovanni del Simone, già sindaco per due mandati, e Rosanna Fiorina, già presidente provinciale col diretti donne, ha la sua prima esperienza amministrativa. Entrambe le due liste contendenti, lo scrano a spada, si profilano come civiche, ma più orientate verso centrodestra. Per chi avvenne infine Luca della Bitta si ricandita al sindaco, con buona parte dei suoi attuali collaboratori per il centrodestra, centrodestra, mentre per il centrosinistra in corsa è Angelo Passerini, già direttore didattico nella città del Mera. Una sfida anche questa che si annuncia vincente. Ricordiamo che la grande incognita in queste elezioni comunali è rappresentata dal raggiungimento del quorum in quei comuni in cui è presente una sola lista. Solo se andrà a votare il 50% più uno degli aventi diritto, infatti l'elezione sarà valida, diversamente scatta il commissoriamento. Al via dal 6 maggio il nuovo sistema di accesso agli sportelli del pubblico registro automobilistico dell'unità territoriale ACI di Sondrio, da parte sia dei cittadini sia degli operatori professionali, basato solo su appuntamento e finalizzato a razionalizzare l'interazione con l'utenza e a minimizzare i tempi di attesa. L'interessato, mediante speed o previa registrazione al sito ACI, in un secondo momento anche mediante l'app ACI Space, potrà prenotare il giorno in cui presentare le formalità al Pra attraverso il sito internet. Per gli utenti privati sarà possibile prenotare anche presso l'ufficio relazioni con il pubblico dell'ACI di Sondrio, presentandosi di persone fornendo un documento di identità, dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì. Non è possibile la prenotazione telefonica. Dal 6 maggio la prenotazione può essere effettuata esclusivamente per il giorno successivo alla data di richiesta e solo a proprio nome. Non sarà necessaria la prenotazione invece per ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, formalità a favore di persone con disabilità, pratiche con prenotazione annullata a causa forza maggiore. Quest'oggi visita Sondriese per Giuliano Pisapia e Carmine Pacente, candidati nella circoscrizione Nord-Ovest per la lista Partito Democratico Siamo Europei alle elezioni del 26 maggio prossimo. Vediamo il servizio di Giuliano Padroni. A Sondrio appuntamento in agenda rispettato in vista delle elezioni europee del 26 maggio prossimo per il capolista ed ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia ed il consigliere comunale del capoluogo Carmine Pacente, candidati nella circoscrizione Nord-Ovest per la lista Partito Democratico Siamo Europei. Dopo una conferenza stampa ed un incontro con il pubblico presso un bar pasticceria di Via Nazario Sauro, la visita alla sede provinciale del Partito Democratico in Via Trieste e poi l'immediata partenza per Lecco per un altro incontro. Come capolista nel Nord-Ovest con la lista Pd Siamo Europei lei si scontrerà con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, una politica loro spesso urlata e che ha puntato e continua a puntare alla pancia degli italiani. Lei lì vinse nel 2011 diventando primo cittadino a Milano. Su cosa punta maggiormente? Io punto innanzitutto sulla verità perché quello che si dice dell'Europa, cheppure ha i suoi difetti, cheppure ha le luci e le ombre, il passi avanti e il passi indietro, però è assolutamente falso. L'Europa potrebbe fare tante cose se purtroppo non sono state fatte anche per colpa di quei governi, tra cui l'attuale governo italiano che dice di no a ogni proposta positiva per l'Europa, per gli europei e quindi anche per il nostro paese. Sul tema immigrazione, uno di quelli che condiziona maggiormente questa campagna elettorale, recentemente si è espresso dicendo sul tema dei migranti e degli sbarchi l'Europa deve dare una risposta unitaria. Se oggi esiste un regolamento, una norma europea che di fatto prevede che chi sbarca in Italia deve rimanere di fatto in Italia, non dimentichiamoci che quella norma è stata votata dal governo Berlusconi-Salvini. Proprio recentemente in Commissione europea, in Consiglio europeo, si è decisa una proposta di distribuire tra tutti i paesi dell'Europa i migranti che scappano dalla guerra, dalla fame e dalla tortura, eppure chi ha votato contro è stato proprio l'attuale governo. Ci siamo appena lasciati alle spalle le celebrazioni per il 25 aprile, che anche in provincia di Sondrio hanno portato con sé uno strascico di polemiche. Beh, la memoria quando falsifica la storia non è più memoria, è falsificazione, è strumentalizzazione, fa male agli italiani, ma fa male ai giovani e ai meno giovani. Adesso la democrazia è di tutti, ma non bisogna strumentalizzarla, ma farla diventare realtà. Per chiudere, la provincia di Sondrio rappresenta per la Lega di fatto una roccaforte, e basta pensare al quasi 41% delle preferenze raggiunte lo scorso anno. Io credo che il dialogo, il confronto, la volontà di farsi comprendere e di ascoltare sia fondamentale per cambiare politica e vedere finalmente anche in questa zona buona politica, come c'è stata in passato. Carmine Pacente, la sinistra italiana paga purtroppo una frammentazione interna. Qual è la situazione attuale? Sono convinto che con proposte chiare e con messaggi di verità, che riguardino però le questioni anche europee, perché non possiamo trasformare le elezioni europee in un referendum nazionale, parlando di tutto ciò che riguarda esclusivamente questioni interne e non invece questioni così importanti come quelle europee. Dando questi messaggi e facendo quest'operazione verità, noi avremo qualche sorpresa alla fine di maggio. Bisogna cambiare l'Europa facendolo dall'interno. Il sistema dei fontanelli SECAM gestito in valle è stato preso a modello per l'Italia da EcoFuturo, una trasmissione che parla di ecologia in onda su 81 emittenti televisive italiane vista da un milione e mezzo di spettatori. Ieri Fabio Roggiolani, uno dei fondatori di EcoFuturo, accompagnato dal responsabile scientifico Giuliano Gabbani, docente dell'Università di Firenze, ha raggiunto la Valtellina per raccontare l'esperienza della società pubblica valtellinese in un servizio che andrà in onda nelle prossime settimane. Ricordiamo che grazie a SECAM, la società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Sondrio, vi sono 9 milioni e mezzo di bottiglie di plastica in meno. Sul sipario, sulla 42esima edizione della Ponte in Fiore, rassegna di cultura, arte, spettacolo, mostre, musica e conferenze in programma a Ponte in Valtellina fino al 26 maggio. Nel servizio vi proponiamo una panoramica dell'evento con i suoi appuntamenti clou e un focus sulla camminata di primavera nei campi coltivati a melo e a vite, evento, emblema della rassegna, riproposto da due anni a questa parte nella sua veste originaria. Vediamo il servizio. Si è alzato il sipario pochi giorni fa sulla Ponte in Fiore, 42esima edizione, che terrabanca nella terra dei meletti fino al 26 maggio prossimo. 35 appuntamenti, fra mostre, concerti, spettacoli teatrali e conferenze con uno special guest del calibro di Filippo D'Averio, che l'11 maggio sarà a ponte alle 18 alla Chiesa Madonna di Campania in occasione dei 500 anni dell'organo bizzarri per tracciare la storia dell'Europa moderna attraverso la musica d'organo, mentre il giorno successivo, 12 maggio, ha da non perdere la proiezione di filmati storici relativi ad alcune edizioni di Ponte in Fiore negli anni 80 e 90, alle 21 al Cinevittoria, e 25 maggio alle 21 e 30 all'Osservatorio Astronomico Giuseppe Piazzi di San Bernardo, Ponte in Fiore sotto le stelle, conferenza sui più grandi telescopi del mondo con Walter Ferrer dell'Osservatorio Astronomico di Torino, cui seguirà l'osservazione guidata del cielo notturno. Intanto domenica scorsa, successo per la passeggiata di primavera lungo l'Agro Pontese, scattata alle 14 con gran partecipazione di residenti e turisti. Partendo dalla Madonna di Campania, qui stiamo ascoltando il gruppo musicale Nuova Melodia, in questo momento, partendo da qua, andremo verso i Frutteti, quindi in aperta campagna, per poi risalire su verso il centro storico del paese, dove ci sarà anche un finale. Durante il tragitto incontreremo poi la società filarmonica, anch'essa terrà un mini concerto, tre o quattro pezzi, e poi sul finale, appunto, a Casa Roseto del Drago, a Casa Cassani, nel centro storico di Ponte, canterà il corovetta, offriremo bel rinfresco. Apprezzata l'apertura di Casa Cassani, dove si è esibito il corovetta, nel giardino del Roseto del Drago. Questa è la casa della mia famiglia, che abbiamo deciso di aprire al Comune, alle manifestazioni del Comune, e come casa vacanza per ospitare, speriamo, gente che viene in Valtellina da tutto il mondo. Oggi è una giornata speciale, perché l'arrivo della passeggiata di Ponte in Fiore, con il corovetta che sentirete nel sottofondo, al giardino pieno di gente meravigliosa, che guarda, gioca, e fa piacere vedere vivere queste case, in queste manifestazioni. Casa Cassani è stata l'ultima tappa, con rinfresco a base di vini, di produzione locale, di prodotti tipici, del pomeriggio trascorso su e giù per le vie, i vigneti e i meleti di ponte, nel segno di quella che era una delle proposte clou delle prime edizioni della manifestazione, nata proprio per mettere al centro le produzioni del paese, con i suoi meleti e i suoi vigneti. Ad esibirsi in Piazza Madonna di Campania anche il gruppo musicale Nuova Melodia e nei vigneti, la società filarmonica di Ponte, l'obiettivo della manifestazione resta quello di sempre. E sempre nell'ambito di Ponte in Fiore sono allestite tre mostre, visitabili il sabato dalle 15 alle 18 e 30 e la domenica e i festivi dalle 11 alle 12. La prima è aperta fino al 26 maggio al Teatro Comunale Giuseppe Piazzi in Piazza Luini. Si tratta dell'esposizione fotografica di Edwin Fair, intitolata L'arte del quotidiano, a cura di Massimo Mandelli, promossa dal Biblioteca Comunale. La seconda è visitabile presso la sede dell'Associazione Amici degli Anziani, sempre in Piazza Duini ed è la personale dell'artista Anna Scaramelli intituata Patchworks Colorized, aperta fino al 12 maggio. La terza è ubicata Rosetto del Drago di Casa Cassan ed è una mostra documentaria di parole e immagini per i 500 anni dell'anticorgano bizzarri. Resterà aperta fino al 5 maggio. La celebrazione del 25 aprile a Morbenio, svoltosi domenica scorsa, ha contribuito a smussare i toni della polemica divampata nel corso della manifestazione provinciale a Chiavenna. Tanto Mauro Del Barba, senatore PD, quanto Andrea Ruggeri, sindaco di Morbenio, hanno richiamato all'unità e alla condivisione degli ideali della liberazione il servizio. Dopo le celebrazioni provinciali del 25 aprile, svoltosi giovedì a Chiavenna, Morbenio ha festeggiato domenica questa ricorrenza. Il polverone, seguito all'intervento del presidente provinciale Ampi, Egidio Mele, a Chiavenna, è stato placato nel corso della manifestazione morbeniese, dove più volte è stato ribadito dalle autorità presenti che questa festa deve avere come fine quello di unire e non di dividere. Lo stesso Egidio Mele, che era presente, ha elogiato gli amministratori e politici cittadini per il rigore con cui hanno festeggiato l'anniversario. Nella città del Bitto, questa cerimonia si è sempre rivelata molto sentita e anche quest'anno è stata seguita da numerose persone. Le celebrazioni hanno preso il via alle 10.30 nella chiesa di San Giovanni con la Santa Messa per poi proseguire con il corteo tra piazza San Giovanni, piazza Caduti per la Libertà e Mattei. Di fronte al monumento ai Caduti l'alza bandiera la deposizione dell'omaggio floreale, atto conclusivo nel piazzale delle scuole di Viale Ambrosetti dove si è svolta un'ulteriore deposizione di un omaggio floreale il saluto delle autorità. Qui è stata scoperta una targa commemorativa con la seguente dicitura, sabato 28 aprile 1945. Fra le mura di questa scuola veniva firmata la resa della colonna tedesca il comando unificato Valtellin-Altolario del Comitato di Liberazione Nazionale. Presente anche la filarmonica di Morbenio che si è esibita durante la sfilata. Il 25 aprile è coscienza di popolo perché allora il popolo nacque con la partecipazione di tutti i pezzi della società pezzi di esercito di istituzioni cattolici comunisti per questo motivo è una cerimonia che riguarda tutti sarebbe un peccato se ci fosse una frattura fra le istituzioni e la coscienza popolare che è rappresentata soprattutto dall'ANPI. Bisogna discutere però in maniera democratica in maniera alta e non riducendosi a una fazione come se il 25 aprile fosse un derby tra chi ha vinto e chi ha perso. Abbiamo perso tutti con la seconda guerra mondiale con il nazifascismo abbiamo perso tutti e tutti insieme però allora i nostri nonni hanno cercato con fatica con sacrificio di costruire questo Stato che le istituzioni hanno il dovere di difendere ma di difendere insieme i propri concittadini. Per gli italiani è sempre una giornata speciale in quanto rappresenta la resistenza alla fine del fascismo e della dominazione nazista significa la rinascita del popolo italiano tutto avvenuta 74 anni fa. Durante il saluto dell'autorità si è cercato più volte di smussare i toni. Riportiamo il 25 aprile al centro e abbandoniamo le polemiche che non servono a nessuno. C'era un protocollo consolidato ma da anni un protocollo consolidato da anni con la prefettura con le forze dell'ordine con i comandanti provinciali dei carabinieri dalla guardia di finanza e di altri corpi ed è sempre funzionato perfettamente. Quest'anno c'è stato quel incidente io lo chiamo incidente di percorso Angoli smussatissima fino a un certo punto perché nella discussione post celebrazione della liberazione a Chiavenna oggi si inseriscono anche Giuseppe Enrico Brivio presidente della sezione Ezio Vedovelli del movimento federalista europeo di Sondrio e Guido Monti segretario della medesima. In una nota stampa rimarcano che Egidio Mele presidente provinciale Ampi al di là della formulazione delle proprie critiche non si è permesso scrivono di offendere le istituzioni come invece sostenuto oltre che da alcune autorità presenti all'evento anche da rappresentanti politici che non vi hanno partecipato. Brutti segnali anche la mancata lettura della preghiera del ribelle in chiesa scrivono ancora dell'invito a non cantare bella ciao e della sottrazione del vessillo palestinese ad una persona che lo sventolava pacificamente cui sono state chieste le generalità. Andiamo quindi di concludono i federalisti europei verso la federazione degli Stati Uniti d'Europa o la riaffermazione dello Stato-Nazione con tutti i suoi contenuti più retrivi o anacronistici. Tirano sul podio come città green presa a modello dall'Unione Europea per le eccellenti performance ambientali fatte registrare negli ultimi anni e per essere fra i comuni che promuovono l'uso delle rinnovabili. Vediamo il servizio. Tirano virtuosa nel settore delle rinnovabili è presa modello dall'Unione Europea per le eccellenti performance ambientali che portano sul podio il comune della Valtellina di poco meno di 10.000 abitanti inserito così a pieno titolo nella prima recca alpina ossia i comuni che promuovono l'uso delle rinnovabili ma stabilire il primato diversi opinion leader sensibili alla politica energetica alternativa fra i quali lega ambiente un comune che da anni sceglie l'energia pulita puntando al coinvolgimento e alla sensibilizzazione della cittadinanza attivandosi in prima linea nel creare rete fra produttori distributori e consumatori di energia non c'era la propria soddisfazione il sindaco Franco Spada che traccia una panoramica degli impianti a fonte rinnovabili e presenti sul territorio fra i quali otto produttori in media tensione di cui tre termici cogenerativi cinque fotovoltaici oltre la rete di teleriscaldamento in grado di soddisfare circa l'80% della domanda di energia termica da fonte rinnovabili Tirano è un comune che è 100% rinnovabile la considerazione di promuovere come comune di Tirano l'energia community nasce dal fatto che questo valore che oltre che è un valore etico e morale debba essere anche un valore economico per la comunità che vive a Tirano Tirano comunità energetica che promuove l'uso di energia verde gli utenti che partecipano a questa comunità previ accordi con quella che era l'autorità dell'energia che adesso si chiama Arera possono non pagare o avere grosse riduzioni su quelli che sono chiamati in bolletta gli oneri di sistema che incidono anche per l'ordine del 40% della tariffa che noi paghiamo perché questo vuol dire che l'energia si scambia sul posto all'interno della comunità vuol dire che una persona che ha dei pannelli solari sulla casa possa cedere questa energia direttamente al vicino di casa oppure può scambiarla con un'azienda un riconoscimento che porta a migliorare l'attrattività del territorio invogliando le imprese a investire creando nuovi posti di lavoro ed ora ci spostiamo in bassa a Valtellina l'oratorio San Daniele Comboni di Piantedo in collaborazione con l'oratorio San Giovanni Paolo II di Delebio organizza per domani la biciclettata dell'amicizia dedicata alle famiglie la giornata si aprirà alle 10 e 30 con il ritrovo dei partecipanti all'esterno dell'oratorio di Piantedo seguirà la partenza con la prima tappa alle 11 con il passaggio in località Gera a Delebio per dirigersi poi verso l'abbazia di Vallate attraverso la pista ciclabile del sentiero Valtellina verso le 12 è previsto il pranzo a sacco nel pomeriggio non mancheranno giochi organizzati dagli animatori dei due oratori il rientro a Delebio e Piantedo è fissato alle 16 in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata ed era questa l'ultima notizia del nostro giornale vi do appuntamento alle prossime edizioni vi ricordo che ci potete rivedere sul sito www.radiotsn.tv e sulle pagine social Facebook e Youtube della nostra emittente grazie per l'attenzione buonasera al quadrifoglio a Sondrio il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile al quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti camiceria maglieria calzature e accessori uomo delle migliori marche al quadrifoglio l'abbigliamento maschile di qualità al prezzo giusto ci trovi a Sondrio in via Caimi 72 telefono 0342 51 49 71 per te donna che cerchi nella moda uno stile davvero personale c'è New Probabile Donna la boutique di Sondrio in via Mazzini 15 dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti New Probabile Donna da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour un'eleganza decisamente sofisticata con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità New Probabile Donna abbigliamento borse accessori e calzature a Sondrio in via Mazzini 15 immaginari l'idea che non avevi in testa a Sondrio in via Bonfadini 9 barra zona stazione orario continuato dalle 9 alle 19 giovedì aperto fino alle 21 appuntamenti allo 0342 03 12 35